Mentre gli altri facevano l'italiano io per ridere sono andato a fare l'europeo il primo anno che ho corso e anche un po' per termine allenamento e è andata a finire che il primo anno ho vinto l'europeo quindi non mi ero qualificato l'italiano ma avevo vinto subito l'europeo ed era un buon auspicio per l'anno a seguire E sei rimasto sempre sui minimoto l'anno a seguire? Ho fatto i due anni successivi in minimoto quindi per tre anni ho fatto le minimoto ho vinto per tre volte l'europeo e poi ti racconto che la mia categoria un po' nostalgicamente era fatta di nomi... Stavo arrivando esattamente a questo Erano nomi belli croccanti Chi c'era? Chi c'era in quegli anni? Allora considera che i miei più grandi rivali, amici perché ho delle lettere che ci lasciavamo dopo ogni gara Bastianini era il mio miglior amico all'epoca ed era il mio più grande rivale per tre anni ci hanno giocato l'italiano e l'europeo io e lui tutte le gare e c'era Bagnaia era una generazione di nomi che adesso vuoi non vuoi sono tutti là e quindi quasi non vorrei parlare di questa cosa perché da una parte per me è una coltellata però dall'altra parte ne vado anche orgoglioso Io sono Riccardo Ciotti e questo è Racers un podcast realizzato in collaborazione con Giaga Pubblicazioni Se anche tu come me sei appassionato di motosport ricordati di attivare la campanellina, di iscriverti al canale e di seguirci sui nostri social Alessandro Eccoci Tu hai già visto qualche puntata? Io sono un follower Ah ok, grandissimo Sono un grande seguitore, sì sì, con piacere Quindi sai perfettamente che cominciamo dagli inizi Dalla storia Dalla storia Quindi dove nasci, quando nasci, in che contesto cresci e poi cominciamo a entrare un pochino più nel vivo Allora, allora, è tosta anche perché non mi capita mai di ripercorrermi così Il bello è questo Io nasco nel 1997 a Rimini e ho sempre vissuto a Cattolica fino a qualche anno fa che ho detto poi ti racconterò E vi vengono in un contesto molto semplice in realtà nel senso un bel rapporto con i miei genitori e ho sempre vissuto bene, in tranquillità e in una famiglia modesta quindi i miei genitori facevano lavori normali che poi è stato anche un po' il problema della mia carriera un po' a scatti, che poi magari arriveremo e quindi vengo proprio da una famiglia semplicissima una famiglia normale e come tutti, come tutti i ragazzini di 6-7 anni cosa fai? Vai a giocare a calcio e a me non piaceva assolutamente e un po' costretto dal gruppo dai giochiamo, non giochiamo vado a calcio faccio un allenamento, provo terribile, non mi è piaciuto per niente al primo giorno ho fatto un pianto isterico e lei mi hanno capito che bisognava prendere un'altra strada ho provato vari sport e poi alla fine a 7 anni sono arrivato alle moto e da lì ha cominciato la mia storia che poi tu vieni da una terra appunto di motori dove sono più piste che campi da calcetto ci sono solo piste poi da bambini ci sono un miliardo di piste perciò è stato anche semplice perciò di quando devo ripercorrere la mia storia magari anche nei miei pensieri mentre mi alleno che faccio sport penso a che cosa ho fatto e ho due vite prima delle moto e dopo le moto perché è un po' così no? quando inizia la mia vita? 7 anni quando ho preso la prima moto non prima hai capito? ovviamente cominci con le mini moto con le mini moto cominciato con le mini moto e sai non c'erano scuole non c'era non c'era una vera e propria carriera disegnata come adesso che sai fai mini moto mini gp moto 3 e poi vai al mondiale non c'era e quindi un po' tutti ci arrangiavamo i miei genitori e la mia famiglia in generale nessuno è motociclista nessuno aveva la minima idea di come si potesse fare e nessuno pensava diventasse un lavoro ecco quindi è stato fatto tutto un po' per gioco mio padre veniva ai primi allenamenti con la birretta non con gli attrezzi hai capito? c'è proprio un altro stile di vita stile di corse hai capito? che poi è una cosa particolare perché è abbastanza inusuale perché spesso e volentieri è un ambiente frequentato soprattutto da ragazzini che vengono accompagnati dai genitori spesso i genitori sono o meccanici o comunque gente che ha partecipato al mondo delle corse chiaro chiaro ma di fatti sai che questo non so se sia proprio un aiuto o meno cioè per alcuni dici cavolo i miei genitori sono figli d'arte come tanti e hai un po' una strada disegnata in realtà col fatto che mio padre era totalmente inesperto di corse per me è stato anche più facile perché l'ho vista sempre come un gioco non ho mai avuto quella pressione di dover imitare qualcuno dover per forza fare determinate cose e quindi l'ho sempre vissuta in maniera semplice che questo è proprio il male dello sport dei bambini secondo me in qualsiasi sport però voi non vuoi adesso è per tutti così e adesso è cambiato tanto adesso è cambiato tanto poi ti ripeto mio padre è diventato poi meccanico perché alla fine ridere o scherzare eravamo in pista 50 volte a settimana 52 settimane all'anno ed eravamo in pista sempre mio padre è diventato il top dei meccanici però si è dovuto rinventare cominci con il campionato regionale italiano come funzionava? allora era fighissimo perché c'erano le selettive quindi per accedere all'italiano dovevi fare delle selettive che andavano a zone in Italia e i migliori di ogni zona poi si scontravano a fine anno per questo italiano e io ho preso i miei genitori hanno preso la mia prima minimoto e ho fatto subito le gare e ovviamente i primi mesi non ero competitivo perciò il primo anno non mi sono qualificato all'italiano ai regionali sono stato scartato però verso fine stagione ero iniziato ad essere più veloce anche gli italiani alle qualifiche per gli italiani e di fatto ho fatto qualche podio e gli ho detto cavolo magari non è quest'anno però sarà il prossimo mentre gli altri facevano all'italiano io per ridere sono andato a fare l'europeo il primo anno che ho corso e anche un po' per termine allenamento e è andata a finire che il primo anno ho vinto l'europeo quindi non mi ero qualificato all'italiano ma avevo vinto subito l'europeo ed era un buon auspicio per l'anno a seguire e sei rimasto sempre sui minimoto l'anno a seguire? ho fatto i due anni successivi in minimoto quindi per tre anni ho fatto le minimoto ho vinto per tre volte l'europeo e poi ti racconto che la mia categoria un po' nostalgicamente era fatta di nomi stavo arrivando esattamente a questo erano nomi belli croccanti chi c'era? chi c'era in quegli anni? allora considera che i miei più grandi rivali amici perché ho delle lettere che ci lasciavamo dopo ogni gara Bastianini era il mio miglior amico all'epoca ed era il mio più grande rivale per tre anni ci hanno giocato l'italiano e l'europeo io e lui tutte le gare e c'era Bagnaia era una generazione di nomi che adesso vuoi non vuoi sono tutti là e quindi quasi non vorrei parlare di questa cosa perché da una parte per me è una coltellata però dall'altra parte ne vado anche orgoglioso noi abbiamo avuto diversi ospiti insomma hai visto un pochino di puntate ed erano generazioni differenti certo eppure lì ogni volta si vanno a trovare nomi comunque che hanno fatto tutti in un certo quel modo un certo tipo di la mia generazione è quella attuale ora cioè è la generazione dei piloti ufficiali Ducati MotoGP cioè momentaneamente la creme della creme della creme non ho neanche un aggettivo per descriverlo e quindi sai anche per me la domenica accendere la televisione è sempre un po' è pesante è una malattia quindi io guardo ogni turno, ogni prova, ogni sessione guardo tutto tutto di tutte le categorie che ci sono nel mondo però le guardo con angoscia le guardo male le guardo male so perfettamente le guardo male poi alla fine sono contento per loro però d'altra parte è tosta è tosta l'altra parte è tosta sì quindi fai le mini moto vinci l'europeo rimani le mini moto a certo punto arriverà arriva il momento delle ruote alte qualche generazione la generazione prima di me era il momento che erano nate le ruote medie quindi le mini GP ok ed erano due tempi ancora 12 pollici 12 pollici e Honda decide di fare un trofeo monomarca Honda e il trofeo adesso non ricordo bene le cifre ma era molto conveniente tipo che costava pochissimo lo davano alla moto, la tuta, tutto quanto le moto addirittura non era a sorteggio e quell'anno lì succede che il campionato era diviso in 24 piloti in squadre da 4 hanno fatto questa questa cosa qua quindi il campionato era individuale erano a sorteggio e vengono fuori queste squadre e ti dico solo che nella mia squadra c'eravamo io Ferrari e Bastianini abbiamo vinto tutte le gare che c'erano quindi abbiamo vinto il trofeo subito al primo anno io ho vinto l'ultima gara Ferrari una vinta un'altra Bastianini un'altra quindi comunque alla fine ce la siamo giocata tra di noi il nostro team e quindi abbiamo conquistato il primo trofeo e da lì siamo passati alle due tempi mini GP 50 e 70 e iniziavano a farsi le cose vere perché poi sai non basta più il babbo con gli attrezzi no e no poi ci vuole il team ci vuole cioè inizia a essere una roba che è un gioco perché sei un bambino ma va presa in maniera diversa e avevamo 12 anni quindi eravamo ancora molto piccoli però iniziava a essere già già a vedersi qualcuno tipo Bagnaia che prendeva e andava in Spagna e quindi dici ma perché va in Spagna perché lui i suoi genitori che per lui ci aveva visto lungo lui è andato a fare la scuola in Spagna dei piloti lui è stato uno dei primi della mia generazione il primo sì io ricordo nel 2006 7 8 adesso giù di lì un motosprint in cui c'era Pecco questo giovane questo giovane bambino promesso che va a correre in Spagna guarda ma me lo ricordo veramente come fosse ieri c'era un articolo di Niccolò Caneva che aveva vinto la Stock Mill e il giovane Pecco che andava a correre in Spagna e diciamo io stesso sa perché si va a correre in Spagna quando in Italia comunque spazio ce n'era per questo dico uno dei primi e la stessa domanda che ti fai te io nella mia ignoranza dall'Italia dicevo ma perché questo va in Spagna capito e in realtà perché sicuramente vedi lui è stato forse quello di cui ti parlavo prima che i genitori forse non esperti aiutano perché me l'hanno sempre fatta vivere serenamente però forse un genitore esperto poi ci ha visto lungo ha avuto l'occhio sarebbe stato magari più lungimirante poi bisogna guardare anche la parte economica perché comunque immagina adesso non per farmi i cavoli tuoi ma immaginate di avere un figlio lo prendi lo mandi in Spagna lo devi far vivere a lui in Spagna e te in Italia o seguire che costi può avere economicamente deve essere una cosa non per tutti anche se ci vedi lungo comunque devi fare i conti poi col baggio devi fare una scuola spagnola insomma una scuola di motociclismo anche se fosse tutto gratuito comunque hai una persona un figlio in Spagna devi pagargli l'alloggio da bere da mangiare l'allenamento è insostenibile immagina due affitti già sarebbe una roba insostenibile più ovviamente farlo allenare in moto che sappiamo tutti i problemi che costi che cosa sia e poi ti dico questa cosa qua che mi è venuto in mente prima quando parlavamo di ragazzini io ricordo che le gare quella volta erano tutte belle cioè in base al risultato sportivo che o vincevi o perdevi erano tutti divertenti perché per me non avevo amici a scuola perché i miei amici erano quelli con cui condividevo le moto la mia passione e le avevo in pista quindi avevo i pinci da tutta Italia e ricordo un'estate tutte le gare io e Bagnaia e Pecco facevamo i compiti al camper perché facevamo la stessa classe lui è Torino io è Cattolica ma il libro delle vacanze era lo stesso quindi ci ritrovavamo a fare i compiti insieme dopo i turni ed era una cosa che era un po' che non ci pensavo ma figo si raffiorano poi piano piano i ricordi nostalgici perché poi alla fine si che dice una cavolata no però e da lì arriva il momento delle ruote alte e da lì arriva il momento delle ruote alte e è stato un po' il momento dove poi è stato lo spartiacque tra passami il termine gli amatori e i professionisti tra chi aveva budget e chi non ce l'aveva perché c'è stato un momento in cui alcuni veloci e anche non veloci hanno fatto il salto e altri che sono fermati ovvero è stato un anno in cui le ruote iniziavano a essere alte i costi ovviamente diventavano alti e per alcuni è stato impossibile io quell'anno in particolare l'ultimo anno che ho fatto la mini GP ho fatto secondo al campione italiano quindi non è che ero andato male e Bulegar era il mio compagno di squadra e lui faceva la 50 io la 70 e quell'anno lui poi ha cambiato categoria è andato in premoto 3 e io mi sono fermato perché comunque mi ricordo una scena incredibile ma terribile in questo momento mio padre che viene in camera mia e mi dice guarda Ale mi dispiace ma oltre che non riusciamo a fare l'ultima gara di campionato non riusciamo a correre neanche il prossimo anno e se ci ripenso adesso mi fa star male e ci penso spesso questa cosa e in realtà lì per lì l'ho vista proprio come un la fine di un no ma in realtà lì no perché ti ripeto io la vedevo veramente come un gioco cioè mio padre mi ha detto Ale prossimo anno non corriamo vabbè andrò al parchetto capisci prendo un motorino vado a fare un'impennata non era cioè non pensavo dico non Bulega va al mondiale o altri vanno non al mondiale ma vanno a fare una categoria sopra di me altri piloti fanno una categoria sopra di me e cavolo loro faranno un mestiere lo faranno di lavoro io no per me era loro giocano un altro anno io no hai capito cioè era un gioco proprio un gioco questo comunque è stato positivo perché ti ha aiutato anche a passare quel momento è stato zero zero pesante per me io ho 12 anni non ho sofferto un minuto di questa cosa adesso mi pento il giorno peggiore della mia vita e tornassi indietro magari andare a lavorare con mio papà 12 anni per cercare di trovare budget per correre esatto quelli sono gli anni andavi a scuola io andavo sì alle medie andavo alle medie alle medie sì eravano piccoli ancora perché mini moto mini gp fermo ah ok e poi quindi ancora non sei arrivato sulle ruote alte no io lì mi sono fermato lì io prima di fare i circuiti grandi ho fatto circuiti medi ok quindi dalle piste di mini moto ai cartodromi e poi stop che già comunque era uno step era mini gp cartodromi e lì stop lì ho fatto uno stop perché comunque di là poi si parlava di non mille euro che comunque devo dirti io vengo di una famiglia normale ma non stavamo male cioè io ho una gemella lei aveva il computer nuovo io ho la mini moto cioè comunque eravamo delle persone che sì normale nel senso che non si facciano mancare nulla hai capito comunque anche per un genitore dovesse avere un figlio io adesso dico cavolo ma pensa tutti i weekend andare fuori autostrade alberghi cose no quindi in realtà mio padre erano che se la passava anche in maniera igregia però non abbastanza per poter pagare 20 30 mila per una stagione per un figlio certo senza sapere poi se quella stagione ha un futuro perché poi uno dice lo faccio come investimento ma è certo che poi si arrivi da qualche parte allora devo essere sincero secondo me era comunque mio padre quindi secondo me l'avrebbe fatto per me se ce l'avesse se avesse potuto anche senza dire diventare lavoro e poi comunque tre anni in mini moto ho vinto tre volte l'europeo un anno l'italiano il trofeo onda ho vinto il trofeo onda i suoi posti c'erano cioè comunque il peggior risultato fino al momento era terzo capito cioè non era una cosa che dici impensabile però forse nemmeno lui ci ha visto il lavoro ok e questo stop dura? niente perché in realtà io ho una passione che non non ho un aggettivo per spiegartela cioè io vivo di corse ma non vuol dire che vivo della superbike io vivo di moto cioè penso alle moto parlo di moto mangio con le moto io faccio tutto con le moto quindi io non mi fermerò mai di correre adesso lo faccio come lavoro un giorno magari non sarà un lavoro ma comunque correrò in moto quindi io a 12 anni ho smesso ma ho corso con la Vespa con gli scooter con le pit bike con il motarde con i motardini con tutto ciò che mi proponeva qualche amico qualcuno io correvo certo ogni occasione era buona ogni occasione era buona quindi io realmente non mi sono mai fermato e questa è la mia fortuna che non ho mai perso quei due tre mesi sei mesi un anno star fermo mai mai anzi anzi però arriva un giorno che provi e sali su una su una moto a ruota alta su un circuito vero arriva arriva un giorno che è difficile perché poi sembra poi a volte che si parla male o bene arriva un'opportunità ovvero che un team sperimentale quindi con un nome storico una moto storico però considera che tutte le moto tre hanno il mono classico in maniera verticale loro decidi di mettere l'orizzontale quindi una cosa totalmente diversa e ovviamente bisogna trovare anche chi la guida poi no? perché comunque sono anche tanti team con le moto classiche sai un padre va sul classico per il figlio certo quindi arriva questa opportunità di provare una moto tre un po' particolare e io ovviamente vengo a pensarci vado vado e vado 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 parto vado bene in realtà provo la moto tre e cavolo cioè comunque io non avevo mai smesso di andare in moto quindi andavo anche più forte di alcuni che già la moto tre la provavano e così diciamo di fare nel 2014 un anno di italiano moto tre parallelamente al test di cui ti stavo parlando che provo questa moto succede che ci dicono nel paddock ragazzi guarda che c'è i ragazzi di MTV che stanno facendo dei provini a tutti i piloti che ci sono perché hanno l'idea di fare un programma passate al box X e andate a fare questo provino io vado e insieme ad altri e alla fine passata una settimana ci chiama mio padre il minorenne ancora guarda che il vostro figlio è stato selezionato per fare questo programma su MTV e un docu reality quindi staranno in casa vostra sette giorni su sette ventiquattro ore su ventiquattro e vi riprenderanno anche la vita sportiva di tutto un anno intero e quindi unire la cosa di MTV con la notorietà questo team gli faceva piacere che io facevo questa cosa perciò non mi hanno chiesto soldi per correre e quindi ho chiuso un cerchio MTV mi dava una mano non economica ma di visibilità il team gli andava bene e quindi ho corso per loro una stagione in moto tre e sono veramente ripartito di correre la realtà la realtà è che la MTV mi ha tagliato le gambe sì perché poi io ero ti racconto un sedicenne su MTV di 15-16 quindi ero un gallo hai capito quindi a me non la fama perché parliamo del nulla però comunque un po' di notorietà mi ha dato gusto certo e tra l'altro la stagione in moto tre purtroppo è andata malissimo perché la moto non è mai andata vuol dire che non si è mai accesa durante una qualifica e io quindi non sono mai riuscito a prendere parte a una gara perché non mi qualificavo non facendo nemmeno un giro quindi non ho corso nemmeno una gara e poi quell'anno sai MTV discoteca e le robe quindi sicuramente quello un po' di tempo si è perso ho perso un po' di tempo e quindi non è che ho perso il focus ma quando non correvo non mi pesava certo perché magari vedevo gli altri che correvano io che mi divertivo dico ma perché hai capito posso fare questa roba qua e che team era che moto era intanto era una Rumi era una Rumi un marchio storico Oscar che poi ha tramandato eccetera hanno fatto questo progetto da lì l'hanno iniziato e è finito quindi la moto gialla allora era gialla quando facevano il mondiale tempo fa io parlo che sono da loro quando loro facevano il mondiale in 125 ed era anche un marchio cazzuto certo passa la moto 3 e loro non la prendono al balzo evidentemente la prendono tardi e hanno questa idea qua e vanno dall'italiano ma ti parlo già che era 2-3 anni che c'era la moto 3 quindi insomma sono arrivati un pochino in ritardo fanno questo progetto al mondiale non ci vanno mai fanno un po' di stagione con me un qualche gara con Pontone Pontone poi con la loro moto si è fatto male e da lì il progetto è saltato c'era pure Gavincalia che corse con credo di sì ma in 125 in 125 in moto 3 non credo te lo ricordi il primo giorno che hai provato questa moto a ruote alti in un circo che circuito era innanzitutto? l'ho provato a Cremona e diluviava ok era diluviava ma sai mi dicono un ragazzino di provare una moto 3 e diluviava qua è il problema 9-1 minuto ero dentro col keyway e giravo qua è il problema senza problemi eh sì quindi neanche a dire grandi idee grandi film e te li hai fatto ho preso ma sì ma poi era un periodo in cui io provavo tutto guidavo tutto vuol dire che ho corso con la Vespa con la Vespa 50 special in pista ho corso con gli Zip SP ho corso con i pit bike con i pit bike facevo due categorie per volta perché poi ero un bambino quindi non faticavo facevo prima una categoria poi l'altra andavo forte con tutto era un periodo che mi ha dato tanto perché una mia cosa che adesso mi riesce senza dover parlare di me no? però è che io mi ha dato molto facilmente a quello che trovo probabilmente perché nella mia carriera ho avuto eh tante cose da provare ho avuto tante cose strane anche a volte no dobbiamo parlare di te però di te parliamo oggi no però sai non volevo andare nel tecnicismo no però pure questo è importante perché comunque il fatto che ti sei dovuto adeguare ogni volta una categoria diversa una moto un mezzo un motore differente ma sì ma poi adesso magari siamo abituati a pensare che il weekend di gara parte il giovedino come il CIVO il mondiale il venerdì in realtà quando io facevo queste gare si arriva la domenica mattina quindi magari mi dicevano 50 special vai in pista domenica mattina prova la moto e la Vespa succede succede e sì e vai quindi io però andavo per spingere e quindi andavo per stare davanti e in un turno dovevi capire tutto dovevo capire il tutto e questo mi ha dato questo limite facile che ad oggi però devo essere sincero mi è comodo ricordo una puntata di MTV di come si chiamava poi Motorhome Piloti di Famiglia Piloti di Famiglia sì chi eravate tu? eravamo io la Cecilia Masoni Andrea Caravella e Stefano Valtulini però a fine stagione nessuno di questi si giocava all'italiano e quindi sono entrati Marco Bezzecchi e Manuel Pagliani che loro si giocavano all'italiano momentaneo e quindi sono arrivati a metà stagione anche loro dentro il programma quindi eravamo in sei alla fine ah ok e mi ricordo te una puntata adesso non la riesco a contestualizzare però che dicevi appunto che ti saresti dovuto fermare per mancanza di budget sì perché comunque guardavamo la realtà in faccia momentaneamente correvo con questa moto qua in Moto3 non è che non voglio farlo però non mi piace parlare male capito? no 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 correvo con questa moto che purtroppo aveva questi problemi sai di inesperienza o cosa e quindi mio babbo ci guardava e dicevamo ma non ho un'occasione neanche per farmi vedere come posso il prossimo anno pensare di continuare a correre e tornare sulle moto vere certo e quindi anche in quel programma spesso veniva fuori questo discorso qua guardale non non è cosa non è cosa metti il cuore in pace e fatti una ragione però poi che succede? poi succede una cosa incredibile che questa stagione lì comunque succede così cerco di fartela breve senza perdermi poi succede così che io corro questa stagione qua e all'ultima gara mi presento in pista però all'ultima gara io non volevo correre ma non è che non volevo correre ero stanco di far figuracce perché poi alla fine il nome rimaneva il mio e io voglio spiegare a tutti i problemi capito? però era era anche sempre un giustificarsi non mi piaceva però vado lo stesso in pista in pista succede che il giovedì un pilota della TM ha dei problemi con la moto col team dice sai a me la moto non mi piace va piano io non corro e quindi lui non corre quindi io ero su una moto che non volevo usare perché non andava c'era un pilota in moto 3 che guidava una moto che secondo me andava ma lui diceva che non andava che non voleva correre quindi c'era già un team lì pronto in pista con tutto pagato gomme benzina tutto weekend pagato tutti i meccanici pagati erano lo stesso paddock e quindi sai una roba tira l'altra alla fine sono riuscito a parlare con loro e mi hanno dato l'opportunità di correre l'ultima gara per loro solo che il giovedì io non ho girato il venerdì mattina l'ho sbrigato per fare le pratiche per riuscire a legalmente a riuscire a correre con loro quindi praticamente io provo questa TM il venerdì mattina per la qualifica e io è vero che ho fatto una stagione intera in moto 3 ma non ho fatto neanche un giro praticamente perché la moto come ti dicevo non si è mai accesa quindi non ho fatto una gara non ho fatto una partenza non mi è fatto niente non so come non ho idea come ho fatto podio in gara 1 e podio in gara 2 e quello è stato hai presente quegli assist gol hai capito fatto hai capito quando si dice essere il posto giusto nel momento giusto nel momento giusto e si dice avere un'opportunità e sfruttarle hai capito quando la preparazione incontra l'occasione esatto io vivo di queste cose lo sai vivo di adesso tenere controllo ho avuto un altro paio e ho avuto la fortuna che nella mia vita di chiusure d'anteriore quindi di errori neofatti come tutti probabilmente però mi sono sempre spesso giocato bene le opportunità e questo mi ha dato essere qui adesso senza aver mai avuto budget faraonici e comunque adesso le moto fanno sono la mia vita sono il mio lavoro è il tuo mestiere quindi finisce questa stagione di MTV e comunque se poi mettiamo i puntini sull'i immagina un programma televisivo con un protagonista che tutta la stagione fa fatica l'ultima gara ciliegina sulla torta a due podi ciao boom di ascolti boom di robe quindi a me sta roba mi ha lanciato hai capito e mi ha dato l'opportunità l'anno successivo di correre una stagione intera con un Honda nell'italiano Moto3 ah ok con Honda esatto parliamo del 2015 quindi che c'era Fabio di Gianantonio io ero il compagno di Fabio di Gianantonio con la grigia MRT no MTR e c'era poi l'anno che vinse Bezzecchi poi era l'anno che di Gianantonio e Bezzecchi sono giocati il campionato e vinse a Mugello e vinse a Mugello sì esatto e Bezzecchi ho vinto l'italiano esatto e quello è stato un anno che ricordo con piacere perché è il mio primo anno nel paddock quindi è stato il primo anno che ho detto sai ci sono anche io qua però è stato difficile per me perché è vero che correvo con i pit bike e correvo con tutto il resto però io il Mugello chi l'ha mai visto Imola le piste grandi cioè comunque non è scontato entrare al Mugello c'è 15 anni con una moto 3 e poi il passaggio pre moto 3 quelle robe lì non le avevo fatte il mio compagno di squadra Digia lui invece oltre che aveva fatto tutta la trafila in quell'anno correva anche il rookie's cup quindi magari io facevo guidavo la moto 3 una volta ogni mese e mezzo anche due e i test ovviamente non se ne facevano e lui faceva nel frattempo Yerez Assen Saxering salivano sulla moto e dicevo come si guida così o così e lui partiva e andava tutta mi sono fatto qualche podio mi sono tolto qualche soddisfazione una gara Bezzecchi primo io secondo Digia terzo quindi mi sono fatto qualcosa però non sono riuscito a concretizzare come ha fatto Bezzecchi per esempio ha vinto italiano o di Gian Antonio che ha fatto secondo quell'anno ho fatto qualche errore che o ero davanti facevo il podio oppure cadevo perché avevo la voglia di stare davanti con loro perché ero veloce però avevo la non avevo la preparazione non avevo la preparazione non ero non potevo farlo non potevo i chilometri perché per me è una questione di talento quanto più sì guarda io faccio un esempio in questo momento mi sono dedicato al running corro molto e immagina questa cosa come fai a fare una maratona se non vai mai a correre la domenica come fai per formare se non lo fai col talento puoi andare forte però non è niente sotto controllo cioè lo fai e basta ma non hai la padronanza non sai come regisce il tuo cuore non sai come regisco le gomme non sai come puoi gestire l'ultimo giro o l'ultima fase di gare o anche metà per dire chi l'ha mai fatta e quindi per me arrivavo in gare ed era tutto nuovo non sapevo cosa facevano le gomme non sapevo la moto non sapevo il pino di benzina la prima curva cosa cambiava niente prendevo e andavo un po' così però dall'altra parte c'era Marco Bezzecchi che oggi è MotoGP c'è Gian Antonio oggi è MotoGP non puoi prendere andare devi costruirla hai capito? quindi mi è servito per capire che se vuoi farlo ti devi preparare ti devi preparare e lì ho avuto uno stop un altro un altro un altro sì perché la stagione è andata bene qualche podio mi ero portato a casa però comunque i team chiedevano il budget per l'anno successivo e quindi io qualche podio l'ho fatto sai magari ti dicevano sai te stai andando forte sei giovane ti facciamo X sì ma era comunque troppo era comunque troppo era comunque troppo quindi ho riappeso il casco al chiodo dopo solo un anno però ovviamente io di fermarmi non esiste non hai voglia e ho iniziato avevo già era il 2016 e avevo 18 anni e quindi ho iniziato già a fare qualche lavoretto e lavoravo ho lavorato nell'azienda dove lavorava anche mio padre che lui faceva l'autista io lavoravo invece nel capannone pulivo le carrozzine che facevamo praticamente dei ambulatori per ospedali per la comunque robe tutte ospedaliere io pulivo sistemavo tra virgolette che cercavo di accrocchiare comunque avevo 17 anni quindi non è che fossi un grande preparatore e comunque mi tenevo impegnato così durante le giornate avevo smesso con la scuola che anche lì un paio di incidenti di percorso non mi hanno permesso di fare carriera scolastica e e quindi ho iniziato a prendere qualche soldino vivevo con i miei vivevo con mio babbo lui c'era voglia quanto me di correre quindi abbiamo detto sai cosa quello che guadagniamo ci siamo comprati un super motard e abbiamo corso io e lui con il super motard poi ogni tanto in weekend di gara troviamo qualche aiuto di degli amici che poi dopo ancora dopo frequento che ci hanno aiutato durante la stagione sai uno ti dava magari le gomme uno ti faceva stare sotto la tenda uno faceva un po' il meccanico però ho corso con una moto un crf un'onda vecchia 4 e mezzo 4 e mezzo l'italiano super motard hai capito proprio alla speranza considera che correvo con le gomme con la camera d'aria hai capito c'è proprio mono da cross hai capito però io volevo correre hai capito perché era misto asfalto e sterrato c'erano due categorie io facevo solo asfalto solo asfalto e ti ricordi quando ti parlavo dei dei jolly degli assist nella mia vita che ho avuto qui ho avuto uno un altro so dove vai a parare un altro quello al novantesimo so bene dove vai a parare praticamente nel 2016 faccio l'italiano super motard ti racconto questa prima gara Viterbo era obbligatorio comprare un treno di gomme per fare la gara quindi ci devi iscriverti e ho un treno di gomme obbligatorio quindi cosa che faccio compro un treno di slick al mattino piove secondo te compravo un altro treno di rain quindi siamo messi a intagliare la gomma a mano e devo essere sincero hai avuto un bel lavoro parto e mi gioco la gara quindi vado davanti a giocarmi la gara con ste gomme intagliate poi sai ha pioguto al mattino la qualifica sono andato non benissimo ovviamente con delle slick intagliate sul bagnato ma per la gara ero discreto quindi vado davanti e inizio ad essere primo in gara il problema è che il secondo che si giocava la gara con me era Max Biaggi ecco e quello per me è stato un altro assist incredibile perché io facevo il super motard senza una lira me la battavo me la battagliavo con Max Biaggi a fine carriera però comunque che lui era Max Biaggi e in più tra l'altro è uno agonista quindi non è uno che fa le robe tanto per farle aveva un team incazzato aveva due moto gomme c'era uno che sapeva il metodo ok le faceva fatte bene le cose quindi io faccio questa gara cado all'ultimo giro contro di lui perché è il cuore oltre all'ostacolo l'avevo lanciato il cuore proprio però quindi io comunque contentissimo perché a me era attente della gara non è che interessava io volevo fare la mia goliardata di spingere ero poi comunque giovane e Max Biaggi mi manda un messaggio su Instagram e mi scrive congratulazioni ho visto ho visto in te la fame che che io avevo un tempo e quindi mi ha mandato un bel messaggio e quindi rimaniamo in buoni rapporti non ci sentiamo però comunque stima reciproca e poi iniziamo a battagliarci durante questo italiano succede che in italiano vado bene inizio a vincere una gara inizio ad andare bene l'ATM mi propone un loro succhie con cui avevo già corso in moto 3 se ti ricordi quella wildcard di correre col super motard con la loro moto col TM perfetto quindi da che avevo un'onda scassata e comunque stavo davanti l'ATM mi dà una moto vera per iniziare a fare italiano super motard in un certo modo prendo la palla al balzo faccio una gara e vado subito forte loro lo stesso weekend hanno un problema sempre con i loro piloti in moto 3 e io mi chiamano già avevo corso con loro col super motard era loro vuoi venire a fare una gara e cosa facciamo cosa facciamo quindi fatto sta che mi presento di nuovo in moto 3 wildcard al Mugello se la prima wildcard è così al volo ho fatto il podio non mi chiedere di nuovo come questa gara l'ho vinta quindi anzi te la spiego meglio non è non mi chiedere come io quella l'avevo capita cioè nel senso che ero giovane ma non più così giovane perché avevo già la patente avevo già capito che alle gare dovevo andarci da solo non più con mio padre quindi ho fatto un discorsino babbo guarda grazie per quello che ho fatto fino adesso però è il momento di metterti in panchina e di ti dico questa avevo capito che dovevo prendere la mia passione con più professionalità ok quindi la mia vita precedente la stavo cancellando ed era il momento di iniziare a inquadrarmi quindi scherzando dico non so come ho fatto in realtà lo so bene mi ricordo ogni giro di quei weekend di gara mi ricordo ogni momento io ho preso la macchina cattolica sono andato al Mugero da solo senza mio padre senza nessuno da solo sono andato in albergo ho fatto le mie cose perché intanto guardavo gli altri guardavo Biaggi correva contro di me e anche se era un super motore lui lo prendeva seriamente e quindi avevo capito che quella doveva essere la mia strada quindi io mi svegliavo dall'albergo ero il primo a arrivare in pista stavo solo al box tutti gli altri erano in giro con sai i ragazzini amici quelli che anche io facevo fino a poco prima stavano in giro giocavano eccetera io stavo al box stavo lì dentro stavo concentrato e poi è arrivata la gara e ho vinto e quello mi ha dato una spinta mi ha dato una mi ha dato un'energia che non che non puoi capire mi ha dato proprio cioè mi ha detto io ci torno cioè hai capito il mio cervello mi ha detto che dove non dovevo più lavorare con le carrozzine ma dovevo fare il pilota quindi lì ho proprio capito che era il momento di prendere con professionalità quello che poi mi piaceva di più fare quindi quel giorno ha smesso per me di essere un gioco e di diventare un lavoro un lavoro il click è proprio famoso quindi a volte sai me lo chiedono ma non ci avevo mai ragionato il giorno in cui ho capito che poteva diventare un lavoro quello è stato il giorno che ho capito che doveva diventare un lavoro 2016 2016 proprio prima di partire per la gara io sapevo già non il risultato ma sapevo già che doveva cambiare qualcosa che quello che ho fatto fino al momento prima doveva cambiare che sarebbe cambiare qualcosa che sarebbe che sarebbe dovuto cambiare qualcosa quindi avevo messo me stesso al 100% per fare quel weekend di gara in un certo modo quindi sai non più l'errore stupido prendere con serietà anche al box come parli col team come ti articoli come ti presenti ti dico un'altra cosa cavolate ma per farti capire quanta voglia avevo mi stavo iniziando a crescere la barba comunque non ero più ragazzino però me la facevo a zero perché era più professionale non mettevo la tuta ma mettevo i jeans perché faccio vedere che ero uno quadrato cioè ho cercato di curare i dettagli inutile perché non è il jeans che ti fa andare forte però ti inquadra però mi ha dato qualcosa che adesso invece sto cercando di continuare a mantenere e però devo essere sincero un po' non che la sto più prendendo sotto gamba però un po' di quella pressione l'ho un po' persa adesso che però non mi farebbe bene non mi farebbe male riacquisirla un po' riacquisirla un po' Mugello ultima gara del CIV Mugello ultima gara del CIV si Mugello ultima gara del CIV e anche lì purtroppo sai quando fai quelle wildcard il giovedì non ho girato però comunque partivo ottavo e ho vinto la gara ti dico anche questa sempre per la voglia di cui ti parlavo prima ultimo giro in Moto3 c'era Mattia Casadei Nepa cioè gente che Mattia Casadei ha vinto mondiale Moto3 l'anno scorso Nepa fa mondiale Moto3 cioè gente comunque forte e molto forte e quindi eravamo l'ultimo giro e io qualche chilometro ce l'avevo dall'esperienza prima però era comunque un anno che non salivo su una moto stesa e ultimo giro gruppone eravamo 8, 9, 10 piloti e c'era gara di chi stava dietro perché poi c'è la scia del rettilineo finale e quindi penultimo giro sul rettilineo nessuno voleva andare davanti io li ho guardati ad un certo punto vado io ciao quindi mi sono messo davanti mi sono messo a spingere mentre gli altri ancora guardavano chi va chi non va ho preso il gap ho preso il gap ho preso un secondo tutto tirato ho spinto come un animale tutto l'ultimo giro e ho vinto la gara e sei riuscito a vincere sono riuscito a vincere la gara senza la volata quindi io mi sono staccato dal gruppo anche perché poi quando sono provato a scappare gli altri hanno visto che uno scappava hanno iniziato a rompersi le palle quindi mi hanno agevolato certo hanno perso altro tempo esatto quindi ecco ti ringrazio per oggi perché mi ha fatto ripercorrere quel momento dell'atteggiamento con cui ho preso quella giornata quel weekend che poi è quello che vogliamo raccontare noi in queste circostanze 2016 ultima gara del CIV va come va vinci però ancora in mano non hai niente nel 2017 ancora in mano non ho niente però sai cosa c'ho c'ho la vittoria dell'ultima gara intanto e quella la metto lì e in più c'ho ciò che avevo voglia avevo voglia e avevo voglia di capire anche come funzionasse la gestione perché poi sai quando uno pensa alle gare pensa al venerdì sabato domenica qualifiche gara appunto in realtà le gare sono tutt'altro la gestione a casa sponsor team chiami non chiami mandi un messaggio la sera per farti sentire per far vedere che sei vivo come ti atteggi le ICMA sono tante cose quindi io l'ultima gara vado e decido che vado alle ICMA carico di brochure di tutta la mia professionalità e inizio alle ICMA a bussare tutti e cerco qualche aiuto sai casco la tuta quello quell'altro in quel momento giuro mi mando un messaggio Max Biaggi mi dice sei le ICMA anche io vado alle ICMA l'incontro con Biaggi e lui mi dice ti faccio i complimenti per la gara di domenica in moto 3 che hai vinto come wildcard io ero uno spettatore perché per il prossimo anno voglio fare un team in moto 3 quindi il mio dopo carriera voglio aprire un team ho guardato i giovani non giovani e te ti vedo correre con me con il supermontardo e vai forte ti vedo in moto 3 vinci la gara vuoi correre con me l'ennesimo è il triplete altro gol importante capito no è stato quello è stato quello e quindi corri con Max Biaggi e quindi corro con Max Biaggi è stata una stagione che a me mi ha aiutato un sacco perché tutta la voglia di professionalità che volevo cioè volevo capire il metodo avevo l'occasione giusta avevo uno che di metodo ci naviga e quindi ho cercato da lui di rubare più che potevo poi l'inverno lui mi ha aiutato anche in quello perché sai andavamo a prendere le misure della tuta mi ha fatto vedere come relazionarmi con chi vende le tute con chi ha i caschi il motoclub mi ha fatto capire come dovevo gestire il mio il mio pacchetto di persone e parte la stagione prima gara Pol subito a Imola e quindi la stagione è partita bene purtroppo è lì è stato un problema tecnico è tutto nuovo partiamo tecnico di inesperienza mia dei piloti se non lo so comunque è successo qualcosa che succede che praticamente primo giro di gara della prima gara dell'anno era Imola asciutto io e il mio compagno di squadra entrambi ai sai dal primo giro saltiamo per aria come se fossero le gomme fredde ok che poi magari sì magari no non si sa però comunque hai capito sia io che lui saltiamo per aria e sia io che lui quegli ai side brutti ci rompiamo i polsi quindi entrambi a piedi sai poi Max Biaggi fa il team primo team prima prima volta che mette le moto in campo senza piloti bruttissimo io ho fatto 12 ossa scomposte quindi è stata tosta piccola ossicina che hai nel polso nelle mani eccetera però comunque alla fine mi hanno operato e mi hanno messo i fili quelli esterni di Kirchner si chiamano quindi comunque perché mi chiamano fermi perciò ho dovuto non solo tanto il tutore il fatto che avevo questi fili fuori dalla mano e non potevo far niente quindi due mesi fuori è stata tosta è stata tosta però ho detto ma sai cosa quando torno spacco il problema è che nel frattempo che io e il mio compagno mancavamo Max ha messo altri piloti quindi sai un po' se questi van forti se questi non van forti fortunatamente questi non andavano forti ha provato vari piloti e nessuno di loro è mai riuscito a fare un bel risultato rilevante perciò finisce la nostra degenza e ritorniamo chi era? il tuo compagno di Davide Baldini che lui poi dopo ha smesso di correre lui quella stagione ha fatto un pochino più di difficoltà non è mai riuscito era anche più piccolino però forse era un po' presto e invece io ritorno e anche lì sono tornato molto bene perché sono tornato e abbiamo fatto quattro gare quattro podi due vittorie quindi comunque sai è vero che la prima gara mi sono rotto però intanto l'ultima gara dell'anno l'ho vinta di nuovo io a Vallelunga e sono scappato e quindi sai intanto vinci la gara e poi di prepotenza perché vai via proprio scappi in modo 3 fai proprio vedere che sei uno forte e quindi ero così ero senza soldi ma a fine stagione ero sempre primo hai capito? e quella roba lì mi ha aiutato mi ha aiutato perché poi vuoi o non vuoi l'ultima gara dell'anno è la più importante perché uno ti fa dal morale perché ti fa fare tutto l'inverno con la spinta e in più sei un il nome è sulla bocca di tutti certo quindi paradossalmente se avessi vinto le prime due gare e poi mi fossi fatto male alla fine sarebbe stato peggio e invece così ho fatto comunque terzo l'italiano perché comunque fai dei podi è un attimo prendere punti all'italiano che sono poche gare quindi vado anche lì a prendere la medaglia che ho fatto terzo nonostante che un po' di gara non l'ho fatta e l'ultima la vinco però mi ero fatto un esame introspettivo e avevo capito che che la moto 3 non era roba mia perché vedevo di Gian Antonio vedevo i miei amici vedevo Fenati Bagnai Antonelli che già erano al mondiale che loro sulla moto 3 avevano già molta più esperienza di me perché avevano già fatto l'europeo l'italiano erano anni che correvano e io è vero che ho vinto due gare tre con quella dell'anno prima ma quante gare ho fatto avevo fatto sette gare in tutta la mia vita in moto 3 e quindi ho detto ma ho fatto due conti con me stesso ho detto per quanto io posso aver talento e crederci parlo di quello che la mia testa pensava poi non quello che dicono gli altri però quanto io posso avere talento non ho ancora quella disciplina non ho ancora quell'esperienza e quei chilometri di cui mi parlavi per far sì che posso competere con gli altri e poi non basta il talento perché lì ci puoi fare una gara però poi la costanza piove bagnato cioè dopo il metodo e la professionalità e l'esperienza ci vogliono fare un campionato intero giustamente io una gara da all in partivo sai cosa io mi ero fatto male vado a fare la gara vado a tutta tanto l'italiano non lo vinco quindi vado a vincere capito non ho paura di niente non ho paura di cadere poi è andata bene ho vinto però poteva anche cadere che l'avevo messo in conto capito però per fare un campionato come bagnaia bastini tanto stavano facendo io non ero pronto non avevo quella quell'esperienza lì e lì quindi ero in ritardo ero in ritardo perché avevo 18 anni 19 anni ed ero grande ero in ritardo non avrei avuto il tempo di fare errori come gli altri dovevi essere già al mondiale da qualche anno probabilmente dovevi essere già al mondiale o comunque dovevi essere in quel posto lì quindi vincente l'italiano moto 3 ma con molta più esperienza non con solo tre vittorie e quindi io mi son detto ma sai cosi mi sono fermato un sacco di anni non ho corso ho fatto sempre una carriera particolare sai cosa mollo tutto e vado sul mille lì sarò in anticipo ho 18 anni vado sul mille sarò in anticipo per un anno non devo sempre rincorrere gli altri a cercare un buco magari qui faccio due anni e sono ancora più giovane e così è stato hai fatto un salto poi un po' particolare perché tutti quanti passano per la 600 invece tu subito sul mille e ti dirò che io avevo talmente voglia di farlo alcuni mi chiedono adesso ma come era saltare anche perché anche perché io non è che sono solo saltato moto 3000 io l'ho fatto il giorno dopo quindi io ero a Vallelunga domenica la domenica sera vado al Mugello lunedì giro al Mugello giro al Mugello con il 1000 quindi la domenica alle 4 pomeriggio guidavo un 2 e mezzo e il lunedì guidavo un 1000 ma non è che dici un amico mi presta la moto e provo il 1000 ero con un team apparecchiato per fare un test vero e proprio col chieri ero con Altea Racing di Genesio Bevilacqua che lui con me è stato un signore perché lui con me ha visto del talento e lui diceva almeno e mi ha dato un'opportunità lui lì mi ha proprio dato un'opportunità perché non ha guardato in faccia ai soldi neanche per i test ha solo guardato la voglia la grinta la determinazione e la velocità è stato un po' bastardo in termine positivo perché ogni test che mi ha fatto fare non me l'ha fatto fare da solo mi metteva al mio fianco qualche altro veterano della superbike di esperienza e voleva vedere voleva avere il calibro voleva sapere quanto andavo e se andavo quindi per me era anche un po' di angoscia perché sai prendi il 1000 vai di fianco a uno che magari lo senti che è un nome già grande perché chi fa la superbike da uno che fa la moto 3 era già un nome nomi tipo allora in quel test in quel test c'era Manfredi e c'era Manfredi che faceva il test con me Kevin Kevin sì e al Mugello e poi c'era fatto un altro test a Magione c'era Michel Fabrizio quindi non uno da niente e Riccardo Russo ah ok che ad oggi è il mio compagno di squadra pensa un po' come va ah sì oggi è il tuo compagno di squadra e quindi facciamo un test che per me era un provino per loro forse era un test per provare la moto per vedere se poi poteva essere il caso di guidare la moto di Genesio Bevilacqua per la stagione quindi mi presento al Mugello il giorno dopo la moto 3 e io avevo talmente tanta voglia che anche lì pioveva e ho detto sai cosa vado dentro vado dentro a 300 all'ora mi ricordo ancora la prima accelerata della corsa dei box come è stata? hai presente lo zainetto attaccato al pilota uno per la strada uguale io ero così ero così ero uno zainetto anche perché volevo andare a tutta avevo quella avevo quella cafonaggine che non era un pensiero provare era a tutta e io sono partito così anche tu hai avuto quella quel pensiero che hanno la maggior parte dei piloti che provano il 1000 per ogni volta per una categoria piccola piuttosto che la 500 gli anni precedenti dire come si fa andare forte portare al limite un mezzo del genere no 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 ma guarda totalmente il contrario sai in quanti me lo chiedono ma io non mi sono fatto zero problemi qual è stata la mia fortuna però anche come ti dicevo che ho avuto nella mia vita sempre queste moto diverse da provare quindi per me era non era un salto di categoria una moto nuova era vabbè la routine io comunque ogni volta correvo per una moto per un weekend quindi non è che quindi per me non l'ho vissuta male questo modo di fare non mi ha creato zero ansie zero 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 per me è stato proprio vabbè dai vado su 1000 è classico no in realtà non era così che fate quell'anno poi quell'anno quella è successa una roba quell'anno un'altra vado al Mugello e faccio il test e vado forte Genesio mi dice andiamo a Magione faccio il test e vado forte e cado perché io avevo paura di niente soldi e paura mai avuti niente niente quindi ero pronto tutte le volte che uscivo dai box era all in tutte le volte e Genesio questa da una parte lui probabilmente pagava i danni quindi sicuramente gli interessava però d'altra parte ci vedeva un po' di no e quindi alla fine Genesio mi dice alla fine della giostra voglio correre con te quindi lui fa il mondiale superbike con l'oris vads e fa l'europeo stock 1000 con me ah quindi il 2018 io corro l'europeo stock 1000 con Altea primo anno di 1000 stock 1000 primo anno di 1000 prendiamo e andiamo ad Aragon bene pista sconosciuta pista sconosciuta ma lì primo turno bagnato la gente ci faceva i problemi vado dentro primo turno davanti a tutti primo tutte bagnate le prime volte eh sai prima gara dell'anno è sempre eh ma i test quando si fanno si fanno quando marzo febbraio ottore quindi piove capito e io col bagnato comunque un bel feeling e quindi mentre gli altri anche lì si facevano i problemi io mi presento al mondiale primo e quello sai sono cose che ti danno anche morale troppo 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 morale sì quell'anno avrei dovuto togliere l'airbag dalla tuta e mettere un paracadute per tutte le volte che l'avrei dovuto che va lanciato il mille sì perché quell'anno quell'anno volato qualche volta sì chi c'era quell'anno quell'anno c'era eh Tamburini parlo di italiani e c'era Mantovani c'era Vitali e c'era Florian Marino che andava molto forte Reiterberger che poi ha vinto il campionato c'erano molti veterani della categoria e veterani proprio cioè che espertoni che sai chi aveva già fatto il mondiale superbike ma correva lì Federico Sandi c'erano tanti nomi grossi e col mio modo di fare mi sono portato a casa un podio di Repubblica Cieca intanto comunque non è scontato vai sul mille podio ho fatto tante prime file quindi in qualifica andavo anche forte quello che mi mancava era la preparazione fisica se prima ti ricordo che io avevo pensieri per diventare costante in Moto3 figurati nel mille no certo io scoppiavo al quarto giro poi la fatica cambia da giorno alla notte mille al quarto giro c'era una bombola d'ossigeno ho tolto il casco facevo il gambolo andavo all'indietro e andavo quindi purtroppo il mio rammarico non è tanto dell'allenamento perché lì come ti parlavo prima della maratona per fare una maratona te puoi andare in palestra o a nuoto quanti giorni vuoi ma poi di fare la maratona devi correre a piedi e io potevo allenarmi quanto volevo ma poi dovevo andare in moto hai capito non è che una moto di guidare un mille tra l'altro uno che non ha esperienza lo tiravo tutto di braccia e io era come guidare un toro era un toro hai capito bmw 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 con le intagliate quindi neanche le slick e la stock e poi avevo un'elettronica anche stock ovviamente perciò era anche una moto che impennava saltava muoveva girava muoveva tanto io sopra ero l'elettronica stradale era stradale era stradale bmw si guidava molto bene il team era un altia in quel momento con quella moto ci aveva corso da anni quindi io non riuscivo a dare feedback perché per me andavo in pista e tutte le volte era da imparare in pista poi lì non è che si girava tanto facevi un turno qualifica e la mia fortuna era che loro avevano già tutti i dati del mondo c'era già corso qualsiasi tipo di pilota torres de rosa con quella moto lì faccani e quindi andavo dentro la moto era sempre in ordine e quello è stato un aiuto non indifferente certo l'hai trovata pronta quello è stato un aiuto non indifferente finisce la stagione come la finisci? finisce la stagione la finisco molto bene perché magnicourt ultima gara dell'anno partivo tipo settimo ottavo e ho detto ma sai cosa è l'ultima gara dell'anno come ti dicevo prima l'ultima gara è quella che ci ricordano quindi sono partito e ho detto oggi è il mio giorno sono partito sono andato a tutta ma tutta vuol dire come un matto cioè qualsiasi cosa che facevano quelli davanti a me io la facevo di più loro frenavano io frenavo di meno loro acceleravano e acceleravano di più tutto settimo considera il primo c'è un tornantino che torna indietro ne ho passati due tutti insieme ma avevo foga foga guidavo come un pasto al primo giro ho fatto il record della pista prendo e vado davanti davanti a tutti e quarto giro sono scoppiato però comunque ero a magnicourt avevo fatto momentaneamente che poi hanno migliorato a fine gara di un decimo non di tanto il record della pista della stock 1000 e comunque ero un ragazzino sull'asciutto con una 1000 per la prima volta davanti a tutti e nel corpo a corpo ho fatto vedere che c'ero capito e comunque vuoi non vuoi per uno come Genesio che comunque qualcosa ci vedeva quello era quello era qualcosa che valeva dice si sei scoppiato però comunque hai fatto hai fatto un garone capito comunque alla fine ho fatto quinto non è che ho fatto ultimo però mi ero giocato il podio perché io a fine gara ero sbudellato l'Adelaide il tornantino l'Adelaide bravo l'Adelaide arrivavo da una staccata ero tipo settimo ho detto sai cosa quando frena quello davanti a me io freno dopo il punto è quello davanti a me stavo solo passando un anno quindi ha frenato lui ha frenato dopo io ho frenato ancora dopo hai capito ciao però lì era proprio l'inna hai capito lì era proprio vado dentro ma non voglio essere un esempio su questa cosa qui perché poi quell'anno io mi sono rotto tutte le osse del corpo ma veramente mi sono rotto mi sono rotto di continuo però avevo quella c'è un aggettivo non voglio dire matto perché non ero matto perché lo facevo con la testa però considera vado a Magione a fare un test con Genesio durante la stagione e cado a Magione così e il mercoledì ed era il weekend di gara di Imola andiamo a provare la moto perché dovevamo provare qualcosa a bazo doveva provare io vado anche io con la stock ne approfitto per fare un po' di giri vado cado mi rompo la clavicola era il mercoledì e dal giovedì bisognava essere in pista per il weekend di gara di Imola io un weekend in Italia l'avevo ancora mai fatto col mille e poi sai Mondiale Superbike in Italia ci vuole essere per forza quindi da Magione al pomeriggio vado direttamente in ospedale a Olio Po dove mi sono operato la clavicola mi mettono le viti i ferrettini classici e giovedì mattina mi sono da l'ospedale prendo esco no devi stare qui una notte esco e vado direttamente in pista Imola vado in pista Imola ero tutto fasciato così no appena operato e ho detto qua bisogna che in qualche modo alzo sto braccio quindi mi sfascio tutto tolgo il tutore quello che c'era e dico adesso devo alzarlo devo alzarlo devo alzarlo l'ho alzato ma dal dal la cattiveria con cui l'ho alzato senza pensare quindi non pensavo al dolore lo sono alzato ho rimesso forse dal male non lo so proprio ho rimesso pensa che è male che ho patito però volevo correre a tutti i nostri venerdì mattina FP1 ero in pista secondo tempo a Imola con la clavicola l'ho parata da un giorno e la cosa che non prendevo neanche antidolorifici perché ovviamente per il doping certo però non so cosa dirti avevo una spinta avevo una spinta di era tutto facile tutto di appositiva avanti un altro cioè mi ha dato una clavicola vabbè dai operala così domani sono a posto capito ho una placa sono a posto niente infiltrazioni niente ho tolto il tutore ho alzato il braccio andiamo è stato proprio una roba quasi che la raccontano sembra che voglio fare il gallo una roba da film in realtà l'ho vissuta proprio così alla Rambo ho capito l'ho vissuta proprio così poi avevo Genesio che mi assecondava e io andavo tutta pensa a questa FP1 ti dicevo vado davanti arriviamo nella qualifica io volevo fare la pole a tutti i costi faccio il primo giro pole momentanea e cado con la clavicola rotta e mi rompo la scapola stesso weekend di gara quindi due giorni dopo voglio correre a tutti i costi quindi non faccio la pole faccio il secondo terzo tempo comunque partivo in prima fila e comunque Stock 1000 Italia prima fila comunque già era una roba figa e solo che mi ero dal male mi sono dovuto poi fermare durante la gara perché non l'hai finita no tra clavicola scapola insomma a un certo punto era un po' hai capito come fece Orghe Lorenzo poi qualche anno prima che è andato a operarsi è tornato esatto poi vabbè la presa l'aereo privato operazioni è tornato vabbè poi devo dirti la clavicola è una roba leggera cioè nel senso è una roba che mi è capitato di rompere anche l'altra poi distanza è comunque una cosa molto semplice si può fare si poi quando ti metti adesso non è che voglio fare lezioni di dottorato non c'è nessuno però comunque personalmente ogni volta che ho messo qualche ferrettino sei già a posto perché il ferro fa il posto dell'osso no? quindi l'ho sempre vissuto così c'è il ferro vabbè sono a posto se la rompo e non è scomposta quasi sto male sto male dentro perché so che devo per forti nel tutore per fare assistare l'osso però quando mettevo dei ferri dico vabbè ci sono i ferri andiamo certo così è andata a posto dell'osso c'è il ferro a posto dell'osso il ferro hai capito e ho sempre corso così alla Rambo Garibaldi andavo e andavo e tutta la stagione così e ovviamente durante l'anno sai le dita il polso la clavicola la scapola il ginocchio eh le senti ultimo anno poi tra l'altro quello della Stock 1000 proprio del mondiale Stock 1000 ah no difatti difatti io cosa succede che l'anno è andato bene per me sarebbe stato perfetto un altro anno Stock 1000 con un po' quell'esperienza lì lo vincevi pure l'anno dopo lo vincevo non lo so però comunque potevo partire già con l'esperienza conoscevo le piste eccetera Stock 1000 eliminata e cosa facciamo cosa non facciamo Genesio chiude una bella roba con Honda quindi Genesio da BMW passa ad Honda che era ancora il modello vecchio ed era l'ultimo anno del modello vecchio che poi hanno presentato la moto nuova con Yoshimura con chi era? Genesio era Honda ufficiale quell'anno si ma c'era pure in mezzo con Yoshimura qualcuno un preparatore giapponese Moriwaki Moriwaki adesso ti fatti arrivavo lì che Genesio ha corso il mondiale superbike con Kamier e Ryuki Kionari nel team ufficiale Honda ufficiale e poi voleva entrare anche Moriwaki che adesso tuttora è al mondiale Genesio la aiuta tra virgolette per entrare e mette a me come pilota con questa moto di Moriwaki il punto è che le moto del team ufficiali non erano quell'anno competitive con le moto attuali e hanno faticato un sacco noi correvamo con una moto molto vecchia e sicuramente poi durante l'anno sai ci sono stati dei problemi anche di budget quindi comunque abbiamo saltato i test a Portimao che tutti facevano quindi sai già non giriamo non facevamo neanche i test c'erano i problemi e si faceva fatica a risolverli io oltre alla moto non ero pronto per fare un mondiale superbike considera che due anni e mezzo prima lavoravo correvo col motard un anno in moto 3 un anno in stock 1000 mondiale superbike cioè non ero minimamente al mio posto hai capito c'ero in Australia la prima gara a fare mondiale tra l'altro test non ne avevo fatti durante l'inverno mi presento a un mondiale intanto mi presenti in Australia che non c'avevo il passaporto già era ho tribolato per partire da l'Australia poi arrivi lì in mezzo a Colossi Bautista Jonathan Rie cioè in mezzo a Colossi che li vedevo da amatore io li vedevo come tifoso hai capito però non può essere in griglia con loro a fare la foto essere un loro tifoso certo non ero a mio agio non ero pronto come lo sarei adesso hai capito e quindi la vedevo troppo da ragazzino comunque troppo da inesperto quindi mi trovavo là per me era una vacanza hai capito vedevo i canguri non ero pronto per fare mondiale su airbike in più non ero aiutato sicuramente dalla situazione certo e la stagione è stata un po' com'era com'è stato cioè la prima volta che ti ha passato Johnny Ria piuttosto che terribile terribile perché loro sono non voglio offendere le madri di nessuno ma considera che io andavo piano specialmente al primo test quindi non ero non ero veloce quanto loro ero ai primi test ero penultimo terzultimo giù di là chiunque mi passava dei top rider mi sorpassava magari nel rettilineo e non è che magari mi passavano le facevano loro staccate mi passavano e mi stringevano e mi buttavano fuori nessuno che abbia fatto un sorpasso educato tutti mi facevano capire che dovevo stare al mio posto quindi mi mettevano proprio l'ansia hai capito perché timone reverenziale proprio sì poi sai sei dietro di Ria leggi Ria è quello che mi chiedo è tosto è tosto adesso la vedrei come sfida tipo vedo Ria adesso ti metto dietro hai capito magari non lo farai però comunque la viverei con quella roba lì e invece prima la vivevo con oh Ria adesso ti chiedo un autogramma capito chiedo una foto Ria è tosta è difficile Ria come tanti altri sì sì adesso ho detto Ria per dirne una però ti dico questa cosa qua ora io la vedo così un po' quando compri la Playstation e compri la Playstation con il gioco di Superbike con MotoGP e inizi la carriera ovviamente parti con l'ultima moto giusto e così è stato anche per me parti con la situazione un pochino più complicata di solito però anche attualmente guarda chi in tutte le categorie fa ultimo ok chi è al Mondiale Superbike adesso fa ultimo fa sempre ultimo con i tanti piloti comunque fanno fatica fanno fatica durante una stagione sono sempre indietro io ero che ho fatto fatica non mi vergogna dirlo che ho fatto delle gare ho fatto ultimo però altre gare invece ero davanti per esempio ho fatto dei turni in Argentina Imola terzo cioè quanti ne vedi outsider così indietro che però stanno davanti Misano partivo ultimo ero nei primi dieci ho fatto ottavo Donnington partivo ultimo anche lì ho fatto in top ten tra l'altro Donnington è quella garezza in cui ti ricordano tutti per il salvataggio perché lì col cavolo che andavo per terra stavo attaccato anche alle pedane mi sarei attaccato piuttosto che andare per terra certo che figliata quella scena però beh quello che voglio dirti è quanti fanno ultimi e poi però stanno così davanti quindi condizione mista io mi mettevo là perché io la vedevo come un'opportunità e quella era sempre la professionalità di cui ti parlavo cioè se c'era una difficoltà a volte c'era anche la race direction che dicevano pista magari troppo bagnata o la sabbia sporca ad Assen c'era la neve roba di fantascienza entriamo o non entriamo c'era chi no non entriamo sai sicuro io entriamo entriamo perché per me era un'opportunità hai capito e io volevo e io volevo portarla a casa con le robe lì quindi per me un warm up bagnato era un modo per stare davanti mi ricordo a Imola terzo il giro d'onore d'onore è un warm up non era una gara quindi non era un giro d'onore però mi ricordo la tribuna tutti a farmi un applauso mi ricordo i Marshall col mio numero cioè per me è stata un'emozione che la pit lane i box degli altri mi hanno fatto l'applauso perché comunque ero lì con il mio boxettino con la mia motina ed ero terzo ho messo dietro gente tutte le altre onda intanto ufficiali e in più mi ero messo dietro con mondiali all'attivo hai capito quel mio rammarico è che da lì mi sono dovuto fermare quanti invece fanno stagioni difficili e hanno l'opportunità di continuare guarda bagnaia che adesso cosa vuoi dirgli però ha avuto le sue difficoltà tre volte campione del mondo momentaneamente il pilota senza avere dubbio non serve che lo dica io più forte che c'è lui ha corso in moto 3 prima della maindra ha corso nel team sky ha corso in vari team dove comunque ha fatto fatica cioè non ha fatto risultati altri si sarebbero dovuti fermare lui comunque con la spinta di questa VR46 è riuscito a ricavarsi un posto permanente quanti non dovevano rimanere al mondiale poi sono rimasti poi sono diventati anche campioni magari no guarda lo stesso Bulega comunque la difficoltà che ha avuto nelle varie condizioni guarda che gara insomma cosa gli vuoi dire a Bulega cioè ha vinto il mondiale arriva si presenta prima gara vince cosa gli vuoi dire però tra virgolette se lui avesse avuto la mia vita dopo la stagione in moto 2 che ha fatto fatica doveva fermarsi e invece ha avuto un'altra opportunità in un team vero hai capito e quindi io a modo mio ho dimostrato a volte che poteva esserci qualcosa però sicuramente per colpa mia per situazioni sicuramente poi lì anche la famiglia o dal lato dal punto di vista economico o dal punto di vista ci guardo lungo o conoscenze poteva essere una grande mano comunque Bulega è un figlio d'arte Antotelli è un figlio d'arte è capito cioè tanti poi la VR46 è una spinta quella è cioè è come quando i giochi trovi il turbo no? è lì uguale è lì una spinta gigante certo è una gran fortuna insomma perché si trova perché si trova lì è una grande fortuna intanto perché ti alleni come un professionista in primis in primis hai una spinta mediatica neanche hai capito neanche Italia 1 la domenica da pranzo c'ha certi due tra l'altro Team Sky tra l'altro Team Sky e hai sempre una moto perché trovano sempre dove metterti e in più ti alleni con Valentino Rossi cioè di che stiamo parlando Valentino Rossi o comunque ti alleni sempre con campioni del mondo gente che mena e quella è una fortuna che è impagabile io ad oggi ogni volta che mi alleno non voglio paragonare a quella roba lì perché ovviamente non è non è possibile però io ogni volta che cerco di muovermi imparando da questi grandi professori che fanno così ogni volta che mi alleno cerco di far gruppo cerco insieme a Saltarelli a tutti i miei amici cerco di comunque non avremo vinto dei mondiali però comunque tra professionisti o comunque amatori veloci chiamiamoli così chiamiamoci così perché comunque alla fine io ho un'idea che finché e questo lo dico finché non riesci a vivere con le corse e non vuol dire che fai corsi di guida oppure che ti arrabatti con qualche sponsorino particolare vuol dire finché tu non mi hai stipendiato abbastanza da poter vivere pagare l'affitto con le corse non sei un professionista sei un amatore veloce punto quindi io il mio gruppo di amatori veloci andiamo a allenarci ogni volta insieme che possiamo quindi non vado mai a girare da solo un po' come la VR46 che vanno in palestra vanno in range insieme io vado con la 300 con i pit bike ma ci deve essere il gruppo che sei Saltarelli Vitali Vitali Ferroni Farinelli siamo tanti ma poi tanti ragazzini che poi ti tengono anche un po' in forma dell'R3 Cup del Mondiale 300 Ercolai tutti che è il motivo per cui Valentino Rossi è riuscito a giocare quando cerco di andare a girare cerco sempre di farlo col gruppo poi sai ormai il nostro gruppo è la categoria della Superbike Cavalieri Bernardi cioè siamo rivali ma dall'altra parte non dico amici perché aspetta con Saltarelli con Vitale con io sono proprio amico io abito con Saltarelli per me è un fratello capito quindi neanche amici ma in linea di massimo ormai la griglia della Superbike ci andiamo in vacanza insieme capito cioè nel senso c'è una sorta di di club è un club capito ormai è una roba tutti insieme quindi finisce il Mondiale Superbike e ritorni al Civ finisce il Mondiale Superbike e porte si aprono perché comunque sempre per la Superbike per il Mondiale Superbike si aprono e c'è stato un interesse da parte di sempre di Moriwaki addirittura ho fatto un mese in Giappone dopo il Mondiale Superbike però purtroppo ho avuto un problema legale tra virgolette nel senso con Genesio perché a me non andava bene come era andata la stagione e a lui evidentemente non andava bene come mi sono comportato io e secondo me alcune cose pattuite non erano così in realtà lui con me è stato un signore perché mi ha fatto un contratto di più anni e però comunque lui a fine di quell'anno ha chiuso il team quindi con Honda purtroppo non è andata una serie di cose quindi lui non c'era più quel rapporto che c'era prima perché comunque quando fa una stagione difficile poi quindi l'ultima gara non è venuto e una serie di cose comunque alla fine non ci si è lasciati benissimo e non sono poi riuscito a quell'anno a chiudere la stagione del Mondiale Superbike perché avevo da sistemare ancora accordi del Mondiale con il team precedente eccetera quindi vado in Giappone inutilmente ho fatto un'esperienza di vita però comunque inutilmente e sono costretto a tornare all'italiano Superbike e da lì parlo dico purtroppo ma in realtà ad oggi sono orgoglioso di quello che ho fatto quindi ne vado fiero di quello che ho costruito in questi anni abbiamo costruito in questi anni però sono di tornare all'italiano Superbike con? con DMR che è il team con cui corro adesso ecco perché all'epoca era BMW io con loro ho fatto due anni io ho fatto quattro anni per il momento l'italiano Superbike due di questi con DMR questo attuale 2024 è il quinto anno per me all'italiano Superbike ed è il terzo con loro quindi ho fatto il primo anno con loro che erano in BMW poi loro sono passati in onda io con loro e poi sono andati in Aprilia e poi Yamaha sono tornato tornando in Yamaha Yamaha ha bisogno di una struttura per fare l'italiano loro avevano voglia anche loro di prendere una sfida nuova e alla fine hanno chiuso questo accordo DMR con Yamaha quindi il mio team con cui ho già corso a tempo fa in Yamaha Superbike quindi si è chiuso un cerchio che hai fatto quest'anno come risultato finale? quest'anno ho fatto quarto è stata la stagione peggiore fino a questo punto di vista Zanetti Pirro Zanetti Pirro Bernardi e poi io è stata la stagione ho chiuso l'anno anche qui con la vittoria dell'ultima gara che è la prossima per caricarsi per l'anno esatto è tipo marchio di fabbrica test bagnato e vittoria l'ultimo test tutti i test che ho fatto oggi incluso ma tutti i test che ho fatto con la Yamaha li ho beccati bagnanti perciò siamo arrivati alla prima gara nel 2023 che non eravamo proprio prontissimi e poi ho avuto anche un paio di sfortune perché un pilota cade e mi falcia e un altro perde olio cado quindi alla fine in italiano sono sei gare se ne salti due è impossibile pensare di fare un bel risultato a finire stagione ho fatto le ultime gare tre podi però comunque non sono riuscito a fatto quarto italiano a finale com'è la notturna figata figata perché poi rispetto ai circuiti tipo lo sail via dicendo che giorno è giorno che giorno lì notte cambia niente lì è notte qui è notte poi tra l'altro credo ci parli di budget adesso non lo so però non è poi illuminatissimo come magari altri eventi togli lo sail che è proprio anche altri eventi considera che addirittura portano una gru per illuminare alcuni punti che sono un pochino più bui la pista si vede si vede tutta però comunque è buia è buio la roba che fa più strano di tutto che dici sembrano robe scontate a parte i fari dei piloti che hai dietro perché ti generano l'ombra quindi te in ogni staccata quando hai uno dietro sembra che hai un'ombra che ti sta sorpassando è vero no c'è nessuno e poi la roba che più dà fastidio questo però non si può fare a meno sono i flash tipo dei video delle tribune qualsiasi luce te sei con questi fari in pista che è tutto buio intorno e poi vedi questi fotografi questa gente col telefono e ti dà un fastidio incredibile però è divertente però è bellissimo figata e il curvone beh il curvone ma alla fine anche di giorno hai due 80 cosa vedi che vedi vai dentro ho chiuso lo sai e quindi ormai lo sai che è lì e ci vai ormai vai a memoria bene quindi quest'anno con Yamaha stesso Yamaha stesso team sono orgogliosamente Yamaha loro è non per parlare della vita sportiva ma loro è un team dove parlo di non di MR di Yamaha mi stanno facendo sentire non più un amatore veloce come ti parlavo prima ma un pilota un professionista sia l'anno scorso che quest'anno ancora di più e mi stanno trattando come un professionista quindi me la stanno facendo credere capito nel senso cioè mi hanno fatto fare uno switch che poi mi ha permesso anche di aprire insieme alla mia ragazza questa cosa di area 52 perché loro mi hanno trattato come un pilota mi hanno fatto credere che nonostante non sono a Mondiale Superbike nonostante non sto facendo la MotoGP come i miei amici che ce l'hanno fatta che potevo farcela e qui loro mi hanno dato veramente un'opportunità di vita quindi ad oggi io per loro sono un pilota faccio il pilota per loro e quest'anno dopo l'anno scorso correrò ancora per loro e quindi ne vado fiero proprio di raccontarlo qualcosa di più insomma del rapporto che avete sicuramente quest'anno ho anche un anno in più di esperienza su quella moto il team lo conosco il team ha voglia di fare il team ha budget sicuramente quindi secondo me sarà un anno solo che positivo tipo a cosa è quest'area 52 allora allora è presente gli alieni area 51 in America allora sai mi ha sempre balenato a me un'idea ti dico questa roba qua hai presente la maglia di Valentino Rossi per dire no gialla dei doctor che al di fuori del paddock fai fatica a indossarlo no cioè non vai il sabato sera a cena con la maglia di Valentino ok perché ovviamente gialla nel paddock è super racing però al di fuori e poi tutti i piloti di Marquez non mi è caso hanno tutti i loro merchandising con la loro roba rossa io ovviamente non posso paragonarmi a loro né in numeri né in questione di tifosi e loro ho detto sai cosa mi piacerebbe fare qualcosa di mio però non vorrei fare qualcosa di mio che proprio si collegasse a me perché sennò dicono ma chi si crede di essere quello no che fa l'italiano che fa il merchandising però mi è sempre piaciuto un po' questo genere di cose e quindi ho detto sai vorrei fare una cosa che riguarda me però che uno che non capisce niente di moto non associa per forza del bianco hai capito 52 alle moto e quindi ovviamente nello stile racing abbiamo deciso insieme alla mia ragazza di iniziare a fare qualcosina abbiamo preso la palla al balzo come ti dicevo della stagione che ho fatto Yamaha e abbiamo detto ma sai cosa io alla fine vivo di corse vivo di moto e vivo non vuol dire che guadagno grazie alle corse oltre a quello per me vivo di moto vuol dire parlo di moto vivo nella mia testa e sono solo moto per me non guardo neanche il telegiornale cioè per me le notizie sono quelle del paddock io apro facebook ho gp1 hai capito no no motosprint non esiste politica non c'è niente per me è presente come sei in vacanza che per cinque giorni sei in una bolla e pensi solo a quello quella è la mia vita io vivo solo di moto per me ci sono solo le moto e quindi ovviamente vorrei trasmettere questa cosa agli altri e allora Alessia mi dice ma perché comunque ti piace lo fai già gli istruttori in pista eccetera ma perché questa passione questa cosa non la trasmettiamo anche agli altri e così io e lei insieme abbiamo aperto quest'area 52 che oltre al merchandising queste gag che alla fine stiamo cercando di lanciare e lanceremo col tempo abbiamo aperto e già è partita a 360 gradi una vera scuola di moto scuola di moto perché non è solo scuola da pista che ovviamente è la base insegniamo come si fa andare più forte in pista ma è una scuola di moto perché vorrei far vivere alle persone proprio la vita di del bianco cioè la vita delle moto arrivi al mattino in pista e quella giornata devi pensare alle moto quindi anche area 52 come vedi la felpa o due cavolate mi piacerebbe comunque il mio stile rimanere nel racing quindi non giallo che la indossi solo nel paddock però una cosa vedi gli scacchi le robe cioè la mia vita il racing a 360 gradi è un mood è un mood bravo è un mood è una vita hai capito è un mood di vita proprio bello quella è la nostra idea quella è la nostra idea quindi noi in questo momento stiamo cioè che poi vorrei raccontare però non vorrei farlo facendo il social influencer o lo youtuber lo fanno già altri e probabilmente non sarei neanche in grado però quello già è un'altra stata ancora non mi sembra professionale io voglio fare il pilota voglio fare il pilota e trasmettere agli altri cosa vuol dire vivere di corse vivere di moto quella passione capito che ti svegli il mercoledì mattina vai un'ora prima di fare i cavoli tuoi in garage a cambiare le gomme perché poi sai che weekend devi andare a girare capito quella roba lì la roba vera roba vera roba vera roba vera roba che io il 2 di gennaio il 31 di dicembre il 25 di dicembre insieme ai miei amici noi andiamo a girare ma andiamo a girare con le pit pike che non vanno neanche a spingere con il ghiaccio che c'è la neve il ghiaccio noi è bagnato andiamo a girare ancora più volentieri andiamo a girare proprio perché ci divertiamo capito cioè io mi diverto mi diverto vado a girare col gusto capito perché c'è la passione sh in strada in penno cioè per me è proprio le due ruote il manubrio la vita quella roba lì hai capito domani smetto di correre non smettere mai per me è comunque una competizione di moto hai capito comunque a portare esempi sono tanti diversi piloti che comunque hanno ormai un'età ma continuano a stare in pista regolarmente vedi Zerbo vedi certo certo però vedi Zerbo fa i campionati fa i trofei lui vedi quello per me non è neanche quello per me è anche il ragazzino l'adulto che ha 100 euro in banca e non può avere neanche la moto però magari noleggia il pit bike è quello che magari c'è una moto scassata e fa i sacrifici per averla quindi non è lo Zerbo che ha vinto mille gare nella sua vita quello è già troppo hai capito la mia è proprio la passione delle corse è l'impennata in strada hai capito cioè proprio le moto hai capito stai parlando di un motociclismo che mi sembra quasi strano ascoltarlo perché è quello che conosco anche io ovviamente ma è un motociclismo che sembra non esserci più parlo di un motociclismo o che non si vede più o che non si vede più probabilmente parlo di come vivere il motociclismo parlo di gare di corse parlo di gente parla più di vita io alla fine mi sono trasferito con Alessia ci siamo trasferiti a Senigaglia e viviamo da Saltarelli perché volevo qua ci siamo conosciuti io e lei un anno fa abbiamo deciso di cambiare vita perché io ho detto mi sta stretto qua io abitavo cattolica sai discoteche comunque locali la sera bevute i miei amici facevano questo per andare dietro facevo quella roba lì però non mi sentivo a mio agio lo facevo ovviamente non è che voglio fare il non non era il tuo posto però non era il mio posto condividevo argomenti che non mi piacevano io volevo parlare di moto io volevo parlare del rapporto volevo parlare di quella roba lì e quindi lei come me uguale ci siamo trasferiti a Senigaglia da uno che è più malato di me Saltarelli e lui tra l'altro ha un'officina noi siamo in officina più di lui praticamente a questo punto e noi ad oggi stiamo proprio vivendo il mio sogno cioè vivere di quello casa garage garage moto furgone abbiamo venduto la macchina per la moto hai capito cioè sticassi tutto hai capito l'importante è avere quello hai capito ah che bello guarda è veramente nostalgico questo questo argomento quello che voglio dire ti hai avuto il piacere di intervistare magari Giuliano o adesso non li conosco quindi non voglio dire a parlare a nome loro però seguendoli conoscendo le loro storie hanno tutti un po' abbandonato la roba Canepa per dire che è un mio grande amico e io sono un suo grande stimatore lui non ha quella passione lì cioè lui non ha non va a girare la domenica con la moto lui ha la passione del racing e gli viene benissimo perché ormai lui è navigatissimo io non riuscirei però a fare quella roba lì cioè io ho bisogno ancora hai capito del pit bike di quella roba lì hai capito quindi quello che voglio portare è quest'altra storia qua quindi non solo le corse sia super bike bellissimo il box il camion proprio la semplicità delle corse mani sporche di grasso cambiare la gomma esatto devo essere sincero non sono ancora così tecnico vabbè magari qualcosa so fare ovviamente però tipo saltarelli mi cazza tutte le volte perché lui è un meccanico invece capito quindi lui è proprio e lui è autonomo in tutto io no però è comunque io e l'S insieme ce la caviamo ce la caviamo bene però giri il caffè col cacciavite col dito proprio col dito bene Ale guarda io ti ringrazio tantissimo perché è stata veramente hai fatto tutto te praticamente io solitamente guido gli ospiti allora abbiamo parlato delle mie robe quindi che dovevo dire che dovevo dire si è inquadrato perfettamente insomma il punto dove dove volevamo arrivare raccontare quello che ti viene sì ma anche prego come dicevo ti seguo perciò con piacere sono venuto e avevo già intuito sei stato preparato esatto avevo già intuito dove quindi io ti ringrazio ci vediamo ovviamente in pista perché bene o male in qualche modo noi vi seguiamo da vicino e niente speriamo alla prossima di riuscire a farne fare qualche altra ospitata in qualche altro contesto con piacere con piacere alla prossima grazie a te per l'invito grazie a voi che ci guarderete e grazie a presto ciao grazie a te per l'invito grazie a te per l'invito grazie a te per l'invito